E AstraZeneca fobia. I carabinieri del NAS stanno sequestrando in tutta Italia le dosi del vaccino appartenenti all'otto ABV2856 a seguito della morte in Sicilia di tre militari, d'età compresa tra i 43 e i 54 anni, che avevano ricevuto la dose dell'otto incriminato poco prima del decesso. Le fatali reazioni avverse sono riconducibili a trombosi e coaguli del sangue, ma finora non è stata dimostrata alcuna correlazione tra i decessi e il vaccino. È per questo che l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, ha affermato che si può continuare a utilizzare AstraZeneca, mentre però sono in corso indagini più approfondite. Come nel resto d'Italia, anche in Abruzzo quell'otto è stato ampiamente usato, precisamente dal 27 febbraio. Prima dall'ASL di Teramo, poi da quelle di Chieti e l'Aquila, e infine da quella di Pescara, dove a Montesilvanno si procede con la vaccinazione del personale scolastico. In Abruzzo finora nessuna reazione avversa, ha detto il coordinatore regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi. Anche qui le dosi del lotto in questione sono state sequestrate e si va avanti solo con le dose provenienti da altri lotti. I fatti di cronaca e la confusione delle informazioni hanno però diffuso la preoccupazione e sono in molti che attualmente stanno annullando l'appuntamento per l'inoculazione. E mentre l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sta effettuando le verifiche del caso. Il dubbio è che l'allarme non riguardi un singolo lotto. Gli effetti collaterali al vaccino si contano sulle dita di una mano. Ma AstraZeneca è già stato sospeso in Danimarca, Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo, dove reazioni simili si sono verificate a seguito della somministrazione di dosi provenienti da un lotto diverso da quello bandito in Italia. A Napoli è morto un operatore scolastico di 58 anni che aveva ricevuto il vaccino di un lotto che nulla a che fare con quello dei tre militari siciliani. Qui la procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Il colosso farmaceutico anglo-svedese ha taciuto fino alla serata di ieri quando ha dichiarato che su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso o lotto. Gran Bretagna, Francia e Germania non ritengono ci siano pericoli e l'Italia è dello stesso avviso. Tutti i vaccini sono efficaci e sicuri, ha detto il ministro Speranza. Quello di AstraZeneca è un vaccino a vettore virale realizzato con l'adenovirus degli scimpanse. La percentuale di reazioni avverse importanti è davvero molto bassa se paragonata alle dosi somministrate e la correlazione tra eventi fatali e vaccino non è dimostrata. È però certo che i decessi, le indagini delle procure e la sospensione disposta da molti stati hanno quantomeno compromesso la serenità di chi va a vaccinarsi.